il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la parola di dio ma i giudei vedendo la folla furono pieni di invidia e bestemmiando contraddicevano le cose dette da paolo ma paolo e barnaba dissero con franchezza era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di dio ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna ecco ci rivolgiamo agli stranieri libro degli atti degli apostoli capitolo 13 versi 44 a 46 grazie a tutti